abbiamo con noi qui alessio zullo portiere del cima al cantone che ha appena finito di disputare il loro match contro il versio finita con una vittoria come state vivendo i primi scampoli del girono di ritorno alessio ti dico la verità è iniziato tutto al meglio fino adesso con questi con questi sei punti spero che continuiamo così abbiamo una partita molto importante mercoledì a balerna e speriamo di fare meglio come abbiamo fatto oggi anche soffrendo lottando da squadra col gruppo e tutto secondo me andrà per il meglio e andremo a portare a casa anche i tre punti che cos'è che vi motiva Alessio? le motivazioni sono tante a partire dalla società che già dalla settimana ci fa capire tante cose standoci vicino comunque pensando sempre alla squadra prima di tutto una società molto presente tanti ragazzi nuovi che hanno voglia di fare bene alcuni giovani si sono inseriti ma si stanno inserendo al meglio ambiti ancora posizioni importanti nel campionato? fino a oggi l'obiettivo principale era la salvezza con queste prime due vittorie l'obiettivo è ancora quello rimane quello non abbiamo per il momento altri obiettivi ma se continuiamo così a giocare da squadra impegnarci e tutto sono sono sicuro che a fine campionato saremo là saremo là davanti e non dico per vincere il campionato ma comunque per fare una una posizione importante benissimo Alessio Zullo ai nostri microfoni per HTC grazie mille 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 Grazie mille